Fosse stata un'azienda di famiglia avrebbe funzionato in maniera efficiente. La banda, con base allo Zen 2 di Palermo, era infatti perfettamente organizzata nella sua attività di spaccio tra Via Pensabene e le altre strade nei dintorni, in particolare i corridoi tra i padiglioni di Via Girardengo. Ma secondo i carabinieri il padiglione di Via Pensabene era proprio il quartier generale dell'organizzazione che predisponeva anche i turni di lavoro dei vari pusher che iniziavano alle 8 di mattina e andavano avanti sino a notte inoltrata con un passaggio di consegne tra un turno e l'altro. Il ricavato delle vendite della droga andava dai 2.000 ai 2.500 euro al giorno e mentre gli spacciatori vendevano in strada c'era chi vigilava su di loro anche usando binocoli per accertare l'eventuale presenza di forze dell'ordine o di telecamere. Ovviamente ci sono dei punti critici come il padiglione che è stato attenzionato dall'operazione di stanotte queste criticità non devono essere delle generalizzazioni, cioè è una parte del quartiere, è una zona del quartiere e vi posso garantire che la gente del quartiere è grata allo Stato per quello che è stato fatto questa notte. Nel gestire lo spaccio l'organizzazione non si poneva tanti scrupoli, in un caso è stato accertato che uno degli spacciatori era minorenne, in un altro che la droga veniva venduta davanti a una scuola elementare. In tutto oggi sono scattati 19 arresti in carcere, 5 ai domiciliari. I capi che gestivano il tutto come veri e propri imprenditori erano Antonino Mazza, Massimiliano Zarcone e Salvatore Bonura. La moglie di Zarcone, anche madre di uno degli arrestati, Elena Billeci, era la contabile che registrava entrate e uscite con tanto di libro mastro. Salvatore Catanzaro e Paolo Puleo invece avevano il compito di gestire le scorte di droga e la ripartizione delle dosi e la raccolta anche del denaro. Infine tra gli arrestati anche Benedetto Moceo, già noto alle cronache perché venne gambizzato dal figlio per questioni che riguardavano proprio il controllo delle piazze di spaccio dello Zen. Non è emerso nessun collegamento con Cosa Nostra, sia per quanto riguarda la fase autorizzativa che per quanto riguarda anche il processo approvvigionativo. Sono aspetti che noi affronteremo anche sulla base di quelle che saranno le risultanze delle attività di perquisizione che sono ancora in atto nel quartiere Zen. Grazie. 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 Grazie.